A Martina Franca la terza edizione della Festa del Volontariato, un evento organizzato in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto e l'Assessorato alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune di Martina Franca. Un'occasione per stare insieme, per conoscersi, per scambiare esperienze e traguardi, ma anche per illustrare le opportunità di crescita educativa e l'iniziativa in programma alla cittadinanza. Il comune denominatore della Festa del Mondo dell'Associazionismo, la solidarietà. La solidarietà veramente non ha età e Martina l'ha sempre dimostrato. Le associazioni di volontariato di Martina, ma anche tutte le altre associazioni del terzo settore, hanno sempre dimostrato che lavorando insieme si ottengono degli ottimi risultati. Dobbiamo togliere di mezzo tutti i protagonismi e questa due giorni è stata voluta apposta per dire che insieme si può costruire una città migliore a misura di persona, indipendentemente dall'età e dalle abilità. C'è la casa del volontariato dove tutti siamo insieme e operiamo a favore di chi ha bisogno e della collettività intera. Il CSV è indispensabile per non chiedere l'elemosina nella città. Noi abbiamo presentato progetti, sono stati riconosciuti dal centro di servizi volontariato e quindi ci permettono di portare avanti le nostre attività con una certa tranquillità. Poi la generosità dei martinesi è tantissima e quindi questo più il lavoro e il contributo del CSV ci permette di realizzare cose veramente molto importanti.